La possibilità che Facebook possa pagare una multa di 5 miliardi di dollari per il caso Cambridge Analytica non preoccupa gli investitori. Il giorno in cui è stata diffusa la notizia, il titolo del social network a Wall Street ha chiuso in rialzo. Si pensa cioè che l'eventuale sanzione non avrà ripercussioni a lungo termine. Barbara Hortutei, giornalista della Associated Press, esperta di tecnologia, non la pensa così. La Federal Trade Commission potrebbe anche decidere di porre nuove restrizioni su come Facebook raccoglie i dati degli utenti per targettizzare le pubblicità. ci ha raccontato, quindi quella degli investitori è una visione un po' miope. La vicenda dei dati di 87 milioni di utenti rubati senza il loro consenso ha aperto un dibattito in tutto il mondo sull'utilizzo dei social network. Quello che gli utenti devono sapere è che Facebook è un business e che, se non può fare profitti in un modo, cercherà di farli in un altro. Bisogna ricordarlo quando si condividono informazioni sui social e bisogna chiedersi anche come quelle informazioni potranno essere usate.